Il caso Chico Forti, nonostante gli annunci e le promesse, è ancora bloccato il rimpatrio dell'italiano condannato in America oltre 20 anni fa. È veramente una tortura per lui, per tutta la famiglia e per gli amici, per quanti lo sostengono, sopportare ancora lungo questa situazione. A parlare, lo zio di Chico Forti, il velista trentino condannato all'ergastono nel 2000 negli Stati Uniti per l'omicidio di Dale Pike, ha sempre detto di essere innocente, vittima di un errore giudiziario e da allora sta scontando la pena in carcere in America. Due anni fa a Natale la notizia di un possibile rientro nel suo paese. Chico Forti tornerà in Italia, aveva scritto in un post l'allora ministro degli esteri Luigi Di Maio. Il governatore della Florida aveva accolto l'istanza del detenuto di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia, ma adesso, con la caduta del governo, tutto è rimandato. Ora il governo nostro è di nuovo caduto, per cui sembra che il problema di Chico Forti si trassini ancora per molto tempo. Mesi fa Chico era stato assegnato ad una diversa struttura detentiva, un ulteriore passo verso il ritorno nel nostro paese, ma con il trascorrere dei mesi i continui interminabili rinvii, la speranza sua e dei familiari è scemata. Adesso bisognerà aspettare come minimo il prossimo governo, sperando che prenda in carico al più presto la vicenda, ma il rischio è che nella lista degli impegni del futuro esecutivo il caso di Chico possa scivolare verso il fondo. Io confido che questo problema venga affrontato in una maniera seria dal governo italiano, perché i limiti di sopportazione di Chico sono all'estremo.